È sordio da dimenticare in tutti i sensi per l'audace Cerignola in Lega Pro. Sicuramente ci si aspettava una prestazione onorevole da parte del team giallo-blu di Michele Pazienza, ma i tre gol delle Monterosi nel primo tempo nella gara di Ponte Vera hanno fatto cadere tutte le buone intenzioni della vigilia. Difesa poco attenta, anche perché subirne tre già di per sé è negativo, un attacco che ha fatto poco o niente contro i padroni di casa, che questa serie la conoscono bene, giocano con disinvoltura senza sbavatura alcuna. La tripletta di Costantino, partita dal terzo minuto del primo tempo e concretizzata seguino a sei minuti dalla concursione della prima equazione, sancisce un dominio indiscutibile. Mentre l'audace Cerignola deve già leccarsi le ferite e pensare al riscatto casalingo l'11 settembre al Monteresi contro i campani del Giuliano, vincenti 2-0 alla Vitervese.